A Nettuno si registrano nuovi casi registrati dalla ASL, il totale dei positivi è di 300 persone. Jessica Dianzio si appella al Premier, vaccinatevi, non voglio morire. ASL Roma 6 ha progettato l'applicazione per seguire i familiari in pronto soccorso. Rifiuti ad Anzio, il PD al centrodestra, SOS Chiarezza sul futuro. Federici, turismo in regione si guarda al futuro, a Nettuno no. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il nostro telegiornale locale, apriamo subito questa pagina per quanto riguarda il nostro telegiornale con il Covid perché sono 9 i nuovi casi registrati dalla ASL, il totale dei positivi è di 300 persone. Sono 9 i nuovi casi di coronavirus registrati a Nettuno, tutti sono stati posti in isolamento domiciliare e attualmente i positivi sono 300 di cui 12 ospedalizzati. Si raccomanda la massima prudenza e il rispetto delle normative anticontagio da coronavirus che sono quelle di indossare sempre la mascherina, lavarsi ed igienizzarsi spesso le mani e mantenere il distanziamento sociale. Parliamo adesso di un caso che è stato messo, che è stato sottolineato dall'opinione pubblica e non solo, si parla di una ragazza, Jessica Dianzio, che si appella tramite i social network al Premier, vaccinatevi, non voglio morire. È una donna Dianzio, Jessica, di 37 anni con una malattia rara in un video pubblicato sui social a fare un appello al Premier Draghi per vaccinarsi. Sono affetta da mastocitosi sistemica, una malattia rara e ho tanti altri problemi di salute ma per la mia regione non rientro nelle priorità. Io devo essere assolutamente vaccinata, spiega Jessica, perché se prendo il covid rischio di morire e non voglio morire. Il mio medico ha scritto alla ASL, sono stata quattro ore in un ospedale in cerca di soluzioni con la paura di contagiarmi proprio lì. Faccio un appello al Premier perché sono sicura che nella mia situazione c'è tanta gente. Ho una bambina piccola, ho una vita davanti, capisco che bisogna partire dagli anziani ma noi anche con poca salute siamo il futuro e vaccinarsi è un diritto. Queste le parole della donna. È nata l'applicazione della ASL Roma 6 con la quale si potranno seguire i propri familiari in pronto soccorso. È nata l'app dell'ASL Roma 6 con l'obiettivo di essere sempre più vicini all'utenza e performanti nei servizi. L'app fa parte del progetto di digitalizzazione denominato Connect Home avviato a gennaio che punta a rivoluzionare la sanità di domani rendendola digitale, smart e personalizzata. L'applicazione è un primo passo importante per la nostra azienda, ha affermato il direttore generale Narciso Mostarda. Ci consentirà di seguire il percorso di un familiare che si è arriccato in uno dei nostri pronto soccorsi direttamente da casa in perfetta sicurezza, evitando di sostare nelle sale di attesa e azzerando ogni possibile gap informativo con le famiglie. L'app inoltre consente di prenotare rapidamente un tampone e di avere informazioni sui servizi e sulle novità della nostra ASL. La sfida della nostra trasformazione digitale dell'azienda inizia proprio da qui. L'assistito è posto al centro e l'organizzazione diventa smart, prendendo forma intorno a lui. Diamo lo sguardo adesso ad Anzio, rifiuti, il PD al centro-destra, SOS Chiarezza sul Futuro. Per la gestione dei rifiuti il PD di Anzio è da sempre convinto sostenitore della gestione pubblica ed è pertanto favorevole ad utilizzare lo strumento della società partecipata. In merito alla deliberazione 27 del 31 marzo 2021, la Giunta aveva espresso la volontà di partecipare alla società in house Ambiente Spa del comune di Ciampino. Il PD di Anzio chiede che vengano fornite dettagliate spiegazioni in merito e di fornire tutti i passaggi preventivi rispettosi delle normative vigenti che sono stati messi in atto dall'amministrazione comunale al fine di poter proporre l'adesione ad una società partecipata. Inoltre chiede di conoscere quali siano le condizioni di acquisizione di quote della società di Ciampino e di relativi servizi che vengono chiesti dal comune di Anzio e quelli offerti dalla società, la percentuale di quota societaria da acquisire e di relativi costi da sostenere, nonché la tutela del personale attualmente in servizio nella società che gestisce il servizio dei rifiuti del comune di Anzio. Chiede altresì per quali ragioni l'amministrazione di Anzio e quella di Nettuno non si sono mai incontrati o non hanno mai pensato a costruire una società partecipata al fine di gestire non soltanto il ciclo dei rifiuti, ma anche altri servizi integrabili, sovracomunali per abbattere i costi che sostengono i cittadini. Così in una nota stampa il Partito Democratico di Anzio. E parliamo anche di Nettuno perché il consigliere Marco Federici interviene su quanto riguarda il turismo e precisa in regione si guarda al futuro, a Nettuno no. In qualità di coordinatore di rete nazionale del Movimento Autonomo Agenzie di Viaggio Italiane, la Mavi, Marco Federici su indicazione della Presidente Enrica Montanucci ha partecipato alla riunione del tavolo tecnico dell'osservatorio regionale del turismo presieduto dal neoassessore regionale Valentina Corrado. Sulla questione Marco Federici è intervenuto al nostro telegiornale. Volevo portare all'attenzione di questa amministrazione il fatto che la regione convoca tavoli tecnici di programmazione per quanto riguarda il turismo, dove si dettano linee programmatiche riguardo la materia turismo in regione, quindi tutto ciò che riguarda la promozione dei luoghi, una programmazione fatta da tutti i facenti parte della filiera. Io ho partecipato come agente di viaggio, considerando il periodo molto negativo rispetto al turismo, però si inizia a programmare quello che sarà sicuramente una stagione importante, perché sappiamo tutti che il turismo di prossimità sarà quello che farà la vera stagione. Quindi mentre partecipavo a questa cosa pensavo perché sul nostro territorio, sul nostro comune non si faccia una programmazione seria per quanto riguarda il turismo, visto che quest'estate sicuramente verremo presi d'assalto da quelli che saranno i visitatori sia per pochi giorni sia per chi deciderà di fare l'intera stagione a Nettuno. Io non vedo assolutamente da parte dell'amministrazione Coppola una programmazione seria riguardante questa materia. E questa era l'ultima notizia di questo nostro notiziario locale. Io come sempre vi ringrazio per averci scelto e vi rimando alle prossime edizioni. Sono di fronte a te ogni giorno. Sono l'Italia innovativa che ricostruisce su basi più solide. Sono l'Italia produttiva che non si ferma mai. Sono l'Italia solidale che non lascia indietro nessuno. Sono l'Italia accogliente che valorizza le sue eccellenze. Sono l'Italia capardia che vuole vincere insieme a te. Con i BTP Futura sostieni il paese e la campagna di vaccinazione e dai forza al tuo domani. Sottoscrivili dal 19 al 23 aprile. BTP Futura. Perché l'Italia cresce con te.